Ciao a tutti, oggi vi vogliamo parlare di turismo. Infatti sono usciti i dati della Banca d'Italia per quanto riguarda le risorse spese dai turisti stranieri in tutta Italia. Se la media nazionale è in aumento, infatti la spesa derivante dal turismo degli stranieri si attesta intorno al 21,82%, nella nostra regione la crescita è molto inferiore. Ci siamo stabilizzati intorno al 14,80%. Sembrano percentuali, buttateli a caso, in realtà sul sito di Banca d'Italia esistono le statistiche dal 1997 in poi e da quando c'è la giunta Bonaccini l'Emilia Romagna ha perso in classifica ben due posizioni. Siamo passati da essere quinti in Italia per introiti derivanti dai turisti stranieri a settimi, superati anche dalla regione Campania che prima invece era dietro di noi. Bonaccini, Corsini, l'assessore, questa giunta in realtà ci racconta sempre un po' quello che gli pare e non racconta tutta la verità. Cioè che se il numero di arrivi e di presenze negli anni è aumentato, in realtà i turisti che arrivano spendono meno. Questo cosa significa? Che portano meno ricchezza sui nostri territori. Per carità non ci vogliamo paragonare ovviamente a località dove c'è un turismo di lusso, come può essere la Versilia, come può essere parte della Liguria, però sicuramente il fatto che i turisti stranieri spendano meno è la conferma che va fatta una riqualificazione seria dell'offerta turistica della nostra regione. Non solo della parte costiera che necessita ovviamente di rinnovarsi, ma anche di tutto l'entroterra e di stimolare e incentivare tutte quelle zone della nostra regione bellissime che non hanno nulla da invidiare ad altre zone d'Italia. Se attiriamo un turismo troppo basso dal punto di vista qualitativo, non solo il territorio non ne beneficia i nostri imprenditori, i nostri operatori turistici, ma addirittura paradossalmente le amministrazioni pubbliche possono avere un aumento di costi, perché quando si parla di milioni e milioni di persone che arrivano nella nostra regione, poi di conseguenza si parla di viabilità, di conseguenza di inquinamento, di gestione dei rifiuti, di gestione delle fognature e quindi tutto questo indotto che si viene a creare se non porta effettivamente ricchezza, poi si traduce solamente in uno spot elettorale del Partito Democratico che parla di aumenti di arrivi e di presenze, ma poi non parla di quella che è la sostanza, cioè della ricchezza che può portare il turismo nella nostra regione. Quindi invitiamo ovviamente Bonaccini e Corsini a raccontare tutta la verità ai cittadini e ad ammettere anche che da quando ci sono loro la qualità del turismo in Emilia Romagna è peggiorata.